Poi un giorno di marzo Rikis era seduto in salotto e osservava Lohor passeggiare fuori in giardino. La ragazza indossava un abito blu su cui ricadevano i suoi capelli rossi fiammeggianti alla luce del sole. Rikis non l'aveva ancora mai vista così bella. La scorse sparire dietro una siepe e poi attese un po' più a lungo di quanto si era aspettato forse soltanto il tempo di due battiti del cuore in più prima che lei ricomparisse e si spaventò a morte perché in quei due istanti aveva pensato di averla persa per sempre. Quella notte stessa si destò da un sogno terribile dal quale non riuscì più a ricordare il contenuto ma sapeva che aveva a che fare con Lohor e si precipitò nella sua stanza convinto che fosse morta, che giacesse nel letto assassinata, violentata, coi capelli tagliati e la trovò in colume. Tornò nella sua camera bagnato di sudore e tremante di eccitazione, no non d'eccitazione, bensì di paura. Ora finalmente confessò a se stesso che era stato soltanto un attacco di paura e mentre se lo confessava la sua mente divenne lucida e tranquilla. Se doveva essere onesto fin dall'inizio non aveva creduto alla scomunica del vescovo né aveva creduto che l'assassino si fosse poi spostato a Grenoble e neppure che avesse lasciato definitivamente la città, no viveva sempre lì tra i cittadini di Grasse e un giorno o l'altro avrebbe colpito ancora. In agosto e in settembre Rikis aveva visto alcune delle fanciulle assassinate, quella vista l'aveva orripilato e affascinata un tempo doveva ammetterlo perché tutte e ognuno in modo molto particolare erano di una notevole bellezza. Mai avrebbe pensato che a Grasse esistesse tanta bellezza nascosta. L'assassino gli aveva aperto gli occhi, l'assassino aveva un gusto squisito e aveva un sistema. Non soltanto perché tutti i delitti erano eseguiti con la stessa tecnica metodica ma anche la scelta delle vittime rivelava un proposito per così dire di pianificazione economica. In verità Rikis non sapeva che cosa realmente volesse l'assassino dalle sue vittime, infatti non poteva certo averle depredate della loro cosa migliore, la bellezza e il fascino della loro giovinezza. Oppure sì, comunque gli pareva che l'assassino, per quanto assurdo potesse sembrare, non fosse uno spirito distruttivo, bensì un meticoloso collezionista. Vale a dire, immaginando, rifletteva Rikis, tutte le vittime non più come singole creature, bensì come elementi di un principio superiore e pensando in modo idealistico alle loro diverse qualità come fusi in un tutto unitario, ne derivava che l'immagine composta da simili pezzi di mosaico doveva essere l'immagine della bellezza per antonomasia e il fascino che emanava da essa non era più di specie umana, bensì divina. Come si vede Rikis era un uomo dalla mente illuminata che non indietreggiava neppure di fronte a conclusioni blasfeme e pur se pensava per categorie non olfattive, bensì ottiche, giungeva molto vicino alla verità. Ora, posto il caso, continuava a riflettere Rikis, che l'assassino fosse un simile collezionista di bellezza e agisse per creare l'immagine della perfezione fosse anche soltanto nella fantasia del suo cervello malato, posto inoltre che fosse un uomo di gusto sublime e con un metodo perfetto, come in effetti sembrava essere, non si poteva supporre che rinunciasse all'elemento più prezioso che esisteva sulla terra per completare quell'immagine. Alla bellezza di Lor, tutto il suo lavoro omicida fino ad oggi non avrebbe avuto senso senza di lei. Lei era l'elemento conclusivo della sua costruzione. Mentre formulava questo orrendo pensiero, Rikis era seduto sul suo letto in camicia da notte e si stupiva della propria calma. Non rabbevidiva e non tremava più. La paura indeterminata che lo aveva tormentato per settimane era scomparsa per dare luogo alla consapevolezza di un pericolo concreto. Le intenzioni e le mire dell'assassino erano dirette con estrema chiarezza verso l'or fin dall'inizio e tutti gli altri assassini erano stati accessori di quest'ultimo delitto, quello culminante. In verità lo scopo materiale dei diritti e comunque l'esistenza di un tale scopo restavano oscuri, ma l'essenziale, cioè il metodo sistematico dell'assassino e il suo movente ideale, Rikis l'aveva intuito. E quanto più vi rifletteva, tanto più gli piacevano entrambe le cose e tutto più cresceva la sua considerazione per l'assassino. Una considerazione, certo, che subito riverberava come da un nitido specchio anche su di lui, perché comunque era stato lui, Rikis, con la sua mente sottile e analitica a scoprire i trucchi dell'avversario. Se anche lui, Rikis, fosse stato un assassino e fosse stato ossessionato dalle stesse idee passionali dell'assassino, non avrebbe potuto agire altrimenti. E come l'assassino avrebbe arricchito tutto per coronare l'opera della sua follia con la splendida, incomparabile lore. Quest'ultimo pensiero in particolare lo affascinava, infatti, che lui fosse in grado di trasferirsi col pensiero nella condizione del futuro assassino di sua figlia, lo rendeva di gran lunga superiore all'assassino stesso. Questi, infatti, senza alcun dubbio, con tutta la sua intelligenza non era in grado di mettersi nelle condizioni di Rikis, fosse anche soltanto perché certo non poteva a sospettare che da tempo Rikis si era messo nella condizione di lui, dell'assassino. In fondo, era così anche nel mondo degli affari, mutatis mutandis, si capisce. Uno era superiore a un concorrente di cui aveva indovinato le intenzioni, non si lasciava più mettere a terra da lui, non quando si chiamava Antoine Rikis, che ne sapeva una più del diavolo ed era dotato di una natura combattiva. Alla fin fine, il più grande commercio di Francia di sostanze aromatiche, la sua ricchezza e la carica di secondo console, non gli erano piovuti dal cielo come una grazia, ma li aveva ottenuti, lottando con l'ostinazione, con l'inganno, poiché aveva subdorato i rischi a tempo debito, indovinato con astuzia i piani dei concorrenti e scavalcato gli avversari. E avrebbe raggiunto anche le sue mete future, il potere e la nobiltà dei suoi discendenti, e non altrimenti avrebbe sventato i progetti di quell'assassino del suo concorrente per il possesso di Lore. Non fosse altro perché Lore rappresentava l'elemento conclusivo anche nella costruzione dei piami personali suoi di Rikis. L'amava, certo, ma ne aveva anche bisogno, e ciò che gli serviva per realizzare le sue più alte ambizioni non se lo lasciava togliere da nessuno, lo teneva ben stretto con le unghie e con i denti. Ora stava meglio, dopo essere riuscito a portare le sue riflessioni notturne circa la lotta con il demone sul campo più ristretto di una disputa commerciale, si sentì pieno di coraggio, addirittura di baldanza, e era svanito l'ultimo residuo di paura. Scomparso l'oscuramento e scomparsa l'ansia struggente, che lo aveva tormentato come se fosse un vecchio tremebondo. Dileguata la nebbia dei foschi presentimenti, in cui, brancolava da settimane, si trovava su un terreno familiare e si sentiva all'altezza di qualsiasi sfida. Sollevato, quasi divertito, salto fuori dal letto, tirò il nastro del campanello e ordinò al suo domestico assonnato di preparare abiti e provviste, perché sul far del giorno pensava di partire per Grenoble in compagnia della figlia. Poi si vestì e cacciò fuori dei letti il resto del personale. Nel cuore della notte la casa di Rudruat si ridestò a una vita operosa. In cucina si accesero i fuochi, le serve correvano agitate per i corridoi, il domestico si affrettava su e giù per le scale, nelle volte delle cantine risuonava il clangore delle chiavi del magazziniere, in cortile ardevano le fiaccole. Alcuni servi correvano a prendere i cavalli e altri tiravano fuori muri dalle stalle. Era tutto un imbrigliare, un sellare, un correre e un caricare. Si sarebbe potuto credere che stessero avanzando le orde austro-sarde, saccheggiando e bruciando tutto come nell'anno 1746. E che il padrone di casa, in prida al panico, si preparasse a una rapida fuga. Ma niente di tutto questo. Il padrone di casa era seduto sovranamente come un maresciallo di Francia allo scrittorio del suo ufficio. Beveva caffè e latte e dava istruzione ai domestici che rompevano uno dopo l'altro. Nel frattempo scriveva lettere al mare e al primo console, al suo notaio, al suo avvocato, al suo banchiere di Marsiglia, al barone di Bouillon e a diversi soci d'affari. Verso le sei aveva sbrigato la corrispondenza e completato tutte le disposizioni necessarie per realizzare i suoi piani. Prese con sé due piccole pistole da viaggio, si affibbiò la cintura con il denaro e chiuse a chiave lo scrittoio. Poi andò a svegliare sua figlia. Alle otto la piccola carovana si mise in moto. Richie scavalcava in testa, splendido a vedersi, con una veste rossovino gallonata d'oro, rendigotto nera e cappello nero dal baldanzoso pennacchio. Lo seguiva sua figlia, vestita più discretamente, ma di una bellezza così radiosa che la gente per strada e alle finestre aveva occhi soltanto per lei. Tra la folla giravano solenni, ah, e oh, e gli uomini si toglievano il cappello, in apparenza davanti al secondo console, ma in realtà davanti a lei, la donna regale. Poi quasi inosservata veniva la cameriera, quindi il domestico di Richie, con due cavalli da Soma. Lo stato notoriamente cattivo della strada per Grenoble non consentiva l'uso di una carrozza e a chiusura del corteo c'erano una dozzina di muli caricati con tutte le possibili mercanzie sorvegliati da due servi. Alla Porte du Coeur le guardie presentarono le armi e le riabbassarono soltanto dopo il passaggio dell'ultimo mulo. Qualche bambino corse dietro al corteo ancora per un certo tempo, poi salutò a lungo con cenni il seguito che si allontanava lentamente salendo per il sentiero ripido e tortuoso verso i monti. Alla gente la partenza di Antoine Richie con sua figlia fece una strana profonda impressione. Era come se avessero assistito a uno sacrificio arcaico. Si era diffusa la voce che Richie fosse diretto a Grenoble, cioè nella città in cui ultimamente dimorava il mostro che assassinava le fanciulle. La gente non sapeva che cosa pensare. Quella di Richie era una imperdonabile leggerezza o un'azione coraggiosa degna di ammirazione? Voleva sfidare o placare i dèi? Ci era il vago e confuso presentimento di avere appena visto la bella fanciulla dei capelli rossi per l'ultima volta il presentimento che l'or Richie fosse perduta. Questa sensazione si sarebbe rivelata giusta, sebbene si fondasse su presupposti totalmente sbagliati. Perché Richie non era diretto a Grenoble? La pomposa partenza non era stata altro che una finta. Fece fermare il corteo a un miglio e mezzo di distanza da Grasse in direzione nord-ovest nei pressi del villaggio di Saint-Valeur. Consegnò al suo cameriere le procure e una lettera di accompagnamento e gli ordinò di condurre a Grenoble soltanto il convoglio con i muli e i servi. Quanto a lui si avviò con l'or e la domestica verso Cabris dove si concesse una pausa per il mezzogiorno, poi attraverso i monti del Taneront cavalcò in direzione obliqua verso sud. Il percorso era estremamente disagevole ma permetteva di aggirare Grasse e la conca di Grasse descrivendo un ampio arco ad ovest e di raggiungere la costa entrosera in incognito. Il giorno seguente Talera al piano di Richie avrebbe preso il traghetto con l'or per le isole Lerins, nella più piccola delle quali si trovava il convento fortificato di Saint-Honorat. Esso era amministrato da pochi monaci vecchi ma ancora pieni di energia che Richie sconosceva bene perché acquistava e rivendeva già da anni tutta la produzione del convento di liquore d'eucalipto, pinoli e olio di cipresso. E per prima cosa pensava di sistemare sua figlia proprio lì nel convento di Saint-Honorat che insieme al penitenziario di Chateaudiff e al carcere statale dell'isola di Saint-Marguerite era senz'altro il luogo più sicuro della Provenza. Lui poi sarebbe tornato senza indugio in terraferma, questa volta avrebbe aggirato Grasse via Antibes-Cagnes e la sera del giorno stesso sarebbe arrivato a Vence. Là aveva già convocato il suo notaio per stipulare un accordo definitivo con il barone di Bouillon circa le nozze dei loro figli Lor e Alphonse. A Bouillon intendeva fare un'offerta che questi non avrebbe potuto rifiutare. Assunzione dei suoi debiti nella misura di 40.000 lire, dote consistente in una somma della stessa entità come pure diverse grosse proprietà terriere e un frantoio presso Maganoche, nonché una rendita annua di 3.000 lire per la giovane coppia. L'unica condizione di Rikis era che il matrimonio avvenisse entro dieci giorni e fosse consumato il giorno stesso delle nozze e che successivamente la coppia si stabilisse a Vence. Rikis sapeva che con un procedimento così affrettato avrebbe alzato il prezzo per l'unione della sua casa con quella dei Bouillon in misura del tutto sproporzionata. Se avesse potuto aspettare l'avrebbe ottenuta a minor prezzo. Il barone avrebbe mendicato in ginocchio di poter elevare il rango della figlia di un grande commerciante borghese tramite il matrimonio con suo figlio, perché la fama della bellezza di Lor era senz'altro destinata ad accrescersi esattamente come la ricchezza di Rikis e la miseria di Bouillon. Ma fosse pure. In questa transazione commerciale il suo avversario non era il barone, bensì l'assassino sconosciuto. L'importante per lui era rovinargli l'affare. Una donna sposata, deflorata e se possibile già ingravidata, non era più adatta alla galleria esclusiva dell'assassino. L'ultimo pezzo del mosaico sarebbe stato falso. Lor avrebbe perso qualsiasi valore per l'assassino la cui opera sarebbe fallita e doveva sentire tutto il peso di questa sconfitta. Rikis voleva celebrare le nozze a Grasse con gran pompa e davanti a tutti e anche se non conosceva e non avrebbe mai conosciuto il suo avversario sarebbe pur stato un piacere per Rikis sapere che quello assisteva all'avvenimento ed era costretta a vedere con i propri occhi che la sua preda piambita gli veniva portata via sotto il naso. Il piano era bene scogitato e di nuovo dobbiamo ammirare il fiuto di Rikis che l'aveva portato così vicino alla verità poiché in effetti il matrimonio di Lor Rikis con il figlio del barone de Bouillon avrebbe significato una sconfitta totale per l'assassino delle fanciulle di Grasse. Ma il piano non era ancora stato realizzato, Rikis non aveva ancora messo in salvo sua figlia con il matrimonio, non l'aveva ancora portata fino al convento sicuro di Saint-Honorat, i tre cavalieri stavano ancora attraversando le montagne inospitali del Taneront. I sentieri erano così difficoltosi che talvolta bisognava scendere da cavallo, tutto procedeva molto lentamente. Speravano di raggiungere il mare presso l'Anna Poule, una piccola località a ovest di Cannes, verso sera. Nel momento in cui Lor Rikis lasciava Grasse con suo padre, Grenoy, si trovava dall'altra parte della città, nel laboratorio di Madame Arnulfi e macerava giunchiglie. Era solo ed era di buon umore. Il suo periodo di Grasse si avviava alla fine. Il giorno del trionfo era imminente. Nella capanna là fuori, in una cassettina foderata c'erano 24 minuscoli flacconi con laura condensata in gocce di 24 vergini, le essenze più preziose che Grenoy aveva ottenuto l'anno prima mediante l'infloraggio a freddo dei corpi, la maracelazione dei capelli e dei vestiti, il lavaggio e la distillazione. E quel giorno Grenoy si sarebbe impossessato della venticinquesima, la più preziosa e la più importante. Per quest'ultimo colpo aveva già preparato un piccolo recipiente con grasso depurato più volte, una pezza di lino finissimo e un pallone di alcol ad alta gradazione. Il terreno era stato sondato con estrema precisione, era il periodo della luna nuova. Sapeva che un tentativo di irruzione improvvisa nell'edificio ben custodito di rudroate era assurdo, per questo voleva insinuarsi e nascondersi in qualche angolo della casa già all'inizio del tramonto, prima ancora che chiudessero le porte della città, protetto dalla propria mancanza di odore che, come una cappa magica, lo sottraeva alla percezione di uomini e animali. Più tardi, mentre tutti dormivano, sarebbe salito fino alla stanza del suo tesoro, guidato nell'oscurità dalla bussola del suo naso. Avrebbe eseguito al lavoro sul luogo con la pezza imbevuta di grasso. Avrebbe portato via, come d'abitudine, soltanto capelli e vestiti, dal momento che queste parti si potevano trattare direttamente in alcol etilico, un'operazione che era più comodo portare a termine in laboratorio. Per l'elaborazione finale della pomata e la sua distillazione in concentrato, aveva calcolato una seconda notte e, se tutto andava bene e non aveva motivo di dubitare che tutto sarebbe andato bene, due giorni dopo sarebbe stato in possesso di tutte le essenze atte a comporre il miglior profumo del mondo e avrebbe lasciato grasso come l'uomo dall'odore migliore del mondo. Verso mezzogiorno finì il suo lavoro con le giunchiglie. Spense il fuoco, mise il coperchio al paiolo con il grasso e uscì dal laboratorio per rinfrescarsi. Il vento arrivava da ovest. Già alla prima ispirazione si accorse che qualcosa non andava, l'atmosfera non era la solita. Nella capodorosa della città questo velo in tessuto di migliaia di fili mancava di filo d'oro. Durante le ultime settimane questo filo odoroso era diventato così intenso che Grenoy aveva percepito con chiarezza persino oltre la città nella sua capanna. Ora se n'era andato, sparito, non si avvertiva più nemmeno, fiuttando con la massima energia. Grenoy era come paralizzato dallo stappavento. È morta, pensò. Poi, ancora più orribile, un altro è arrivato prima di me, un altro ha strappato il mio fiore e si è impadronito del suo profumo. Non si mise a gridare, era troppo sconvolto per farlo, ma arrivò alle lacrime, che salirono agli angoli dei suoi occhi e subito scivolarono giù ai lati del naso. In quel momento, Druotte, di ritorno dai quatre du fain, tornava a casa per il pranzo e un passant raccontò che la mattina di buon'ora il secondo console era partito per Grenoble con sua figlia e dodici muli. Grenoy ricacciò le lacrime e si allontanò di corsa, attraversando la città finale Porte du Coeur. Sulla piazza antistante la porta si fermò e fiuttò. E in effetti, nel vento puro dell'ovest, incontaminato dagli odori della città, ritrovò il suo filo d'oro, sia pure esile, fievole, ma tuttavia inconfondibile. Comunque l'amato aroma non proveniva da nord-ovest, dove c'era la strada per Grenoble, bensì dalla direzione di Cabris, se non addirittura da sud-ovest. Grenoble chiese alla guardia che strada avesse imboccato il secondo console. La sentinella indicò al nord. Non la strada per Cabris o l'altra che portava a sud verso l'Aribot e l'Annapulle? No, di certo, disse la sentinella. Aveva visto coi suoi occhi. Grenoble tornò indietro di corsa per la città fino alla sua capanna. Mise nella sua sacca da viaggio la pezza di lino, il recipiente con la pomata, la spatola, le forbici e una piccola clava liscia di legno d'olivo e si mise subito in cammino. Non sulla strada per Grenoble, bensì sulla via che gli indicava il suo naso, verso sud. Questa strada, la più diretta per l'Annapulle, passava lungo le propagine del Taneront, attraverso gli avvalamenti fluviali di Fraier e Siagne. Era un percorso comodo. Grenoble procedette rapidamente. Quando alla sua destra emerse Arribot, aggrappati in alto, sulle cime tondeggianti, il suo olfatto gli disse che aveva raggiunto i fuggitivi. Poco dopo si trovò più o meno alla loro altezza. Ora sentiva l'odore di ognuno di loro, sentiva persino l'esalazione dei loro cavalli. Potevano essere non più di mezzo miglia ovest da qualche parte nelle foresta del Taneront. Si dirigevano a sud, verso il mare, esattamente come lui. Verso le cinque del pomeriggio, Grenoble raggiunse l'Annapulle. Entrò nella locanda, mangiò e chiese una sistemazione economica per la notte. Era un garzone conciatore di Nizza, disse, diretto a Marsiglia. Poteva pernotare nella stalla, risposero. Là si stese in un angolo e si mise a riposare. Il suo olfatto gli disse che i tre cavalieri erano in arrivo. Ormai si trattava soltanto di aspettare. Due ore dopo, era già al tardo crepuscolo, i tre arrivarono. Per proteggere il loro incognito si erano cambiati i vestiti. Ora, le due donne indossavano abiti scuri e un velo e richisse una giacca nera. Diede a intendere di essere un gentiluomo proveniente da Castellan. L'indomani voleva recarsi alle isole Lerins. Il locandiere doveva trovare una barca che stesse pronta all'alba. Oltre a lui e i suoi c'erano forse altri ospiti nella locanda? No, disse il locandiere, soltanto un garzone conciatore di Nizza che pernottava nella stalla. Richis mandò le donne nelle camere. Quanto a lui andò nella stalla a prendere ancora qualcosa dalle bisacce, così disse. Dapprima non riuscì a vedere il garzone conciatore. Dovete farsi dare una lanterna dallo stalliere. Poi lo scorse distese in un angolo, su una vecchia coperta sopra la paglia, la testa appoggiata contro la sua sacca da viaggio, profondamente addormentato. Aveva un aspetto così totalmente insignificante che Richis per un attimo ebbe l'impressione che non esistesse affatto, ma fosse soltanto un'immagine illusoria creata dalle ombre oscillanti della lanterna. Comunque Richis stabilì subito che quell'essere innocuo, in modo persino commovente, non poteva rappresentare il minimo pericolo. Si allontanò piano piano per non disturbare il sonno e rientrò nella locanda. Cenò assieme alla figlia in camera, non le aveva spiegato lo scopo e la meta dello strano viaggio e non lo fece neanche ora, sebbene lei lo chiedesse con insistenza. L'indomani gliel'avrebbe rivelato, disse, e poteva star certa che tutto ciò che lui progettava e faceva sarebbe stata la cosa migliore per lei e per la sua felicità futura. Dopo cena giocarono alcune partite a l'ombre che lui perse tutte, perché anziché guardare le proprie carte guardava di continuo il volto della figlia per goderle la sua bellezza. Verso le nove la condusse nella sua stanza, che si trovava di fronte alla propria, le dì del bacio della buonanotte e chiusa a chiave la porta dall'esterno. Poi andò a coricarsi anche lui. D'un tratto si sentì molto stanco per le fatiche del giorno e della notte precedente, e nello stesso tempo molto contento di sé e di come andavano le cose, senza la minima preoccupazione, senza quei foschi presentimenti che l'avevano tormentato e tenuto sveglio fino al giorno prima ogni volta che spegneva la luce. Si addormentò subito e dormì, un sonno senza sogni, senza lamenti, senza sussulti spasmodici e senza girarsi e rigirarsi nervosamente nel letto. Per la prima volta, dopo molto tempo, Richis ebbe un sonno profondo, tranquillo, ristoratore. Nello stesso momento Grenoyle si alzò dal suo giaciglio nella stalla. Anche lui era contento di sé e di come andavano le cose, e si sentiva estremamente riposato, sebbene non avesse dormito un istante. Quando Richis era venuto a cercarlo nella stalla, aveva soltanto finto di dormire, per rendere ancora più manifesta quell'impressione di innocenza che già dava soltanto grazie al suo odore insignificante. D'altronde, diversamente da Richis nei suoi confronti, egli aveva decifrato Richis con estrema precisione, naturalmente dal punto di vista olfattivo, e non gli era affatto sfuggito il sollievo di Richis alla sua vista. E così entrambi, durante il loro breve incontro, si erano reciprocamente convinti della rispettiva innocenza, a torto a ragione, ed era giusto così, pensò Grenoyle, perché la sua innocenza apparente e quella reale di Richis alleggerivano il lavoro a lui, a Grenoyle, un modo di vedere le cose del resto che nel caso opposto Richis avrebbe pienamente condiviso.